Il nome d'arte al vostro bambino, Carlo Enrico Leonardo, cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate ad educarvi della fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il vostro, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrino e padrino, testimoni, siete disposti ad aiutare i genti uomini in questo compito così importante? Sì. Sì. Carlo Enrico Leonardo, con grande gioia la vostra comunità esibiana ti accorto. in suo nome io ti segno che ho il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori, padrini, parlate su questo cammino di più il segno di Cristo Salvatore. Sì. Sì.